Per il ciclo botte da ridere, Terence e Bud raddoppiano. Che mi prenda un colpo. Inversione classica, inversione chic. Non tentate in nessun modo di imitarci. Doppi equivoci. Mi sarà capitato di gonfiare qualcuno, no? Sono stato educato in Zizia. Doppi cazzotti, doppie avventure, doppie risate. Terence Hill. Alza i tacchi. Bud spezza. Bel colpo. Non c'è due senza quattro. Stasera 21 e 25, Rete 4.